Un valeta per la Colombo! Alleluia! Alleluia! Bene, innanzitutto bentornati ragazzi e guys, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Just Tiger, quel ragazzo lì che tratto ogni tanto video su YouTube. Allora, Vibonese 1, Palermo 3. Non giocava bene sulle fasce, non riusciva a verticalizzare, poi tra l'altro voglio menzionare e fare dei complimenti a quei tantissimi tifosi che sono andati allo stadio, anche gli Ultras mi pare di aver visto, quindi la CN12. Quindi complimenti veramente per aver sostenuto il Palermo in trasferta, perché oggi ne aveva bisogno e alla fine ha dato un grosso risultato, oltre che una grossa mano proprio da parte dei tifosi. Il Palermo ha iniziato male il primo tempo, secondo me Filippi ha fatto il possibile, io dico sempre che per me la colpa non è dell'allenatore ma è dei giocatori che si devono sbloccare, perché sono loro che corrono, che segnano e che devono fare meno errori possibili. L'allenatore può sbagliare nella formazione, tuttavia c'è stato qualche errorino. Partiamo con il 4-3-2-1, quindi l'albero di Natale, con Punta Brunori, sopportato da Silipo e Fella, Fella che è stato un giocatore dalle due facce in questa partita. Il Palermo ha iniziato a giocare bene, nel senso ha fatto qualcosa di interessante nei primi dieci minuti, poi dopo questo quarto d'ora arriva il gol, come al solito, di un palermitano, ma è stato un gol nettamente involontario, nel senso che sta palla mi ricorda un po' come quella di Palermo-Brescia e di Ndoi che si infila l'incrocio dei pali. In questo caso poi mi sono rivisto l'azione, visto che io ne parlavo anche nel mio gruppo, secondo me non è colpa di Pelagotti. In effetti qualche errore c'è stato qui, ovvero che Pelagotti, ok, era coperto dal difensore convinto di prendere la palla su questo cross dalla sinistra, ma poi qua Pelagotti doveva riuscire a prescindere, quindi può essere pure che involontariamente questa palla la prendevi e l'avevi già tra le tue braccia, invece poi è andato a fare un certo tipo di effetto che neanche l'ha preso l'attaccante della Vibonese, si insacca al lato destro di Pelagotti. 1-0 il Palermo che non riesce a reagire, c'è un calcio di rigore che secondo me c'era nel primo tempo ma che poi, ripeto, non è che possono dare 300.000 rigori, anche se tuttavia ci sono, però dico l'arbitro quello è. Come al solito a noi sempre delle ammunizioni cretine, a loro mai un cartellino giallo, come se loro i cartellini gialli che fermavano le nostre ripartenze non c'erano, no arbitro. Poi a fine primo tempo Silipo fa un gran tiro, il portiere diventa improvvisamente Gigi Buffon e Fella, che è stato fino a quel momento il peggiore in campo. Poi nel secondo tempo è lui l'uomo rivelazione, dopo pochissimi minuti il Palermo tira dalla distanza con De Rose, che poi in maniera, non dico fortunata, ma comunque che il Palermo negli ultimi minuti, nei primissimi minuti del secondo tempo, continuava ad attaccare, alla fine questo gol è arrivato, è stato un bellissimo gol di Fella, gol dell'1-1. Poi arriva subito dopo il gol del 2-1 con Fella, nuovamente, su un errore. Qua ci sono stati troppi errori anche dovuti al discorso che ha fatto prima, ovvero che il Vento ha giocato sia a nostro sfavore che a nostro favore. Poi è arrivato questo gol, è stato bravo a piazzarla sul secondo palo. E poi il 3-1 di Soleri su un cross, mi sembra, di Nicola Valente, che è stato veramente bravo a intuire di testa Edoardo Soleri, diciamo, l'indirizzamento della palla. Dove ha giocato bene il Palermo? Ha giocato bene nel secondo tempo, dove c'è stato un attacco molto propositivo, ha spostato Fella, Filippi, leggermente più avanti, quindi a supporto di Brunori, quindi era una sorta di 4-3-1-2, quindi col trequartista dietro. E devo dire che Fella poi ha trovato le due occasioni da gol che è riuscito a sfruttare. Ci poteva essere anche la tripletta, per poco non ha mancato, mi pare, un cross di Doda, che intanto ha preso il posto di Almici nel secondo tempo, e questo Nicola Valente che faceva addirittura il terzino, ragazzi, ma che roba è? È stata un'ottima pensata, perché Valente dove lo metti lo metti è come il prezzemolo, è buono ovunque. Il Palermo ha giocato bene nel secondo tempo, ha fatto valere la propria esperienza, ha capito che dagli errori si può effettivamente recuperare. Il Palermo, non vedevo una vittoria in rimonto del Palermo da, non so, forse dai tempi di Miccoli, una roba del genere non me la ricordavo praticamente più. Poi un grandissimo complimento che voglio fare al presidente della Vibonese, che è un grandissimo uomo, che lui, catanese doc, vuole fare la partita della vita, alla fine ha perso, insieme agli altri palermitani tutti contenti, felici per il gol di colpo, ma poi sono rimasti dispiaciuti perché poi hanno perso una partita che meritavano tuttavia di perdere, soprattutto nel secondo tempo dove il Palermo ha fatto valere le sue ragioni, poi quando è entrato Ger, il centrocampo si è nettamente sistemato. Questo modulo funziona, sia il 4-3-1-2 che il 4-3-2-1, anche perché gli interpreti ci sono. Giron quest'oggi mi è apparso un pochettino impacciato, ci sono state alcune azioni da gol dove lui poteva crossare la palla, invece faceva sempre sta finta, sta controfinta e poi diciamo si perdeva in un bicchiere d'acqua. Luperini stessa cosa, Luperini è un giocatore che dovrebbe dare filtro all'azione, inserirsi bene in area di rigore, però oggi non ha dato quello che non sta dando nelle ultime giornate effettivamente, non mi ha dimostrato questa gran voglia o quantomeno predisposizione sia per la squadra che per cercare comunque la via del gol, imporsi comunque a centrocampo, non c'è stato questo. Riguardo ai terzini devo dire che Doda mi stupisce sempre di più, è un ragazzo che ho sempre criticato anche in Serie D, ma anche l'anno scorso, pure a inizio anno, però Doda devo ammettere che sta piano piano, come dire, si sta ritagliando un posto da titolare perché Almici comunque per adesso sta un pochettino balbettando questo inizio di stagione e comunque come fu, come non fu, questo Palermo alla fine riesce ad ottenere i primi tre punti, prima vittoria in trasferta dopo soltanto tre pareggi, una sola vittoria arrivata adesso e dopo altrettante sconfitte e adesso diciamo ci mettiamo bene in classifica, siamo terzi a meno uno dal Catanzaro, il Bari mi sembra che debba ancora giocare o comunque ha già giocato, non lo so, non l'ho visto, comunque sono ancora primi in classifica e noi, ripeto, dobbiamo pensare giornata dopo giornata e vedere se il Palermo effettivamente può ambire a qualcosa in più in questo campionato, in questo girone non vedo una squadra schiacciasassi, una squadra che riesce effettivamente a imporre il suo gioco al 100% il Palermo ha grosse potenzialità nel poterlo fare, però non riesce a sfruttarlo al 100%, perché? perché è una squadra che appena prende gol o comunque vede che la partita si sta mettendo e si sta portando in un binario che loro non vorrebbero prendere, subito dopo psicologicamente crollano al 100% e ti possono perdere anche la partita 5-0 come stava rischiando di fare contro la Turris che tuttavia dopo quella vittoria ha perso tutte le partite, incredibile però tuttavia il Palermo oggi mi ha convinto, non nel primo tempo ma nel secondo tempo, dove è stato comunque bravo innanzitutto a ribaltare la partita, che non è una cosa da poco, e poi di riuscire a cercare delle linee di passaggio che prima non c'erano con questo 4-3-2-1, 4-3-1-2, come ho già detto all'inizio di questo video, non ha mai giocato Filippi con questo modulo se non l'anno scorso qualche volta, proprio per cercare di aggiustare la stagione del Palermo che poi si è conclusa, diciamo, in maniera molto dignitosa con i playoff poi persi contro l'Avellino che era piazzato meglio in classifica. E proprio dall'Avellino dobbiamo ripartire è uno scontro diretto importante, noi per adesso abbiamo vinto col Foggia, abbiamo pareggiato col Catanzaro dove secondo me meritavamo noi, per adesso gli scontri diretti ci stanno andando a favore nel senso che per adesso il Palermo convince anche con le grandi, oggi ha convinto pure con una squadra piccola come la Vibonese e devo dire che secondo me ce la possiamo giocare però come si dice ogni partita ha una storia a sé, quindi bisogna vedere effettivamente come la metteranno loro dal punto di vista fisico, se dal punto di vista mentale, quindi che vanno a rompere le scatole i nostri giocatori e metterla quindi sui nervi, poi ci sono tanti palermitani che hanno voglia di rivalza non ci sarà Sonny d'Angelo perché è infortunato, però penso che si possa fare nel senso che questo Palermo ce l'ha le potenzialità e finalmente si è sbloccato Fella, finalmente carissimo dobbiamo continuare su questa strada, perché se il Palermo riesce a giocare per come ho visto oggi, nel secondo tempo ha delle chance in più per poter ambire comunque alla fine del campionato a poter fare qualcosa in più poi è chiaro che dobbiamo stare sempre con i piedi per terra e vedere effettivamente se ci riusciremo ringrazio a tutti coloro che hanno visto questo video, come sempre lasciate un like, lasciate un commento iscrivetevi al mio canale, commentate il video, ditemi che cosa ne pensate di questa partita e come sempre, 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 forza Palermo, ciao ragazzi